Tutti a roccella per sostenere il gigante che dopo 30 anni arriva nella Lega Prosa. Vi aspetto tutta a roccella Ionica per andare a vincere il campionato. Forza Agregas! Allora dobbiamo essere tutta a roccella perché la verità è la città. Tutti a roccella Ionica perché dobbiamo vincere ragazzi. Tutti a roccella Ionica per il sogno che stiamo realizzando. Le fanno insieme forza gigante. Ragazzi ci vediamo tutti a roccella Ionica. Speriamo di festeggiare questa vittoria nel campionato che aspettate da tanto tempo. Sosteneteci tutti in massa e vi aspettiamo. Tutti a roccella ragazzi. Domenica si scrive la storia mi raccomando. Tutti quanti a roccella Ionica perché finalmente si festeggia. E perché? Tutto? Si festeggia. Ragazzi questa domenica tutti a roccella per sostenere l'Agregas. Visto che da 30 anni non si vede questa Lagrega. Però andiamoci a rapprendere. Grazie a tutti.